Probabilmente alcuni di vostri parenti più grandi erano appassionati di una famosa serie TV, il Trono di Spade, in cui la lotta per il potere funzionava attraverso una lunga catena di tradimenti, omicidi, complotti, doppi giochi, inganni e così via. In realtà questi aspetti un po' sanguinari, questi aspetti molto cupi della lotta per il potere, non solo un'invenzione delle serie TV di oggi, ma erano tipici, erano abituali nella storia del passato, nella storia moderna in particolare. Per esempio, nell'Europa del 1500 e nell'Inghilterra dell'epoca dei Tudor, in particolare nella seconda metà del XVI secolo. Ecco, in questa video-lezione, separata in due puntate, diciamo in due parti, proviamo proprio a immergerci nella corte inglese dei Tudor per conoscere da vicino la figura della regina Elisabetta I, la più importante sovrana d'Inghilterra di quel periodo, e della sua grande rivale, storica rivale, ovvero Mary Stewart, italianizzato Maria Stuarda. Due figure molto importanti che hanno saputo in qualche modo catturare l'immaginario collettivo, cioè entrare nella cultura popolare, diventare una parte del patrimonio comune, della cultura europea, e che hanno ispirato, la loro vita ha ispirato, film, opere teatrali, romanzi, serie TV e così via. Attraverso la vicenda di Elisabetta e di Mary Stewart, cercheremo quindi di capire un po' meglio come funzionava effettivamente la gestione del trono, i meccanismi per la successione al trono che non sempre erano molto semplici, e anche cosa poteva avvenire, nonostante si fosse il sovrano o la sovrana, come in questo caso, di uno dei paesi più potenti d'Europa, quindi tutti i rischi, i pericoli e gli imprevisti che potevano verificarsi. Ma intanto partiamo dall'antefatto della cosiddetta età elisabetiana, e cioè il periodo immediatamente precedente, che è già di per sé un periodo molto turbolento e drammatico per la monarchia britannica. Allora, nel 1553 il giovanissimo sovrano Edoardo VI, che era l'unico figlio maschio legittimo di Enrico VIII, si ammala e quindi, poco prima di morire, designa come rete al trono la cugina sedicenne Jane Grey. Ora, questo poneva un problema, perché se la successione al trono era diretta, cioè se l'erede era il figlio o anche la figlia del sovrano, teoricamente era difficile avanzare rivendicazioni sul trono. Quando però la successione era, diciamo, indiretta, cioè la parentela, il grado di parentela era un po' meno stretto, come in questo caso, molto spesso si poteva aprire, nelle varie corti d'Europa, una sorta di lotta di successione, o comunque un braccio di ferro all'interno della classe dirigente, della politica di quel paese, dell'aristocrazia quindi ovviamente, per riuscire a mettere il proprio candidato, la propria candidata sul trono, quindi rivendicare il diritto a diventare sovrano. Jane Grey, in effetti, viene sponsorizzata, diciamo, da una parte della nobiltà nel diventare sovrana, ma in compenso va contro tutto il resto, gran parte, diciamo, della nobiltà inglese, perché in particolare c'era un'altra pretendente al trono, e cioè la primogenita, la figlia primogenita di Enrico VIII. Jane Grey verrà proclamata regina d'Inghilterra il 9 luglio, lei stessa non voleva, non era interessata assolutamente a fare la sovrana, non era interessata alla politica, tant'è che rimarrà nella storia come la regina dei nove giorni, cioè manterrà il potere effettivamente soltanto per nove giorni, prima di cedere la corona a quella figura che era stata invece designata, dalla maggior parte della nobiltà, come la vera erede al trono d'Inghilterra. Questa figura, che vedete qui rappresentata, era appunto la primogenita di Enrico VIII, Mary, era la figlia di Enrico VIII e di Caterina d'Aragona, la sua prima moglie. Maria, quindi Maria I, passa al trono come Maria I, diventa regina d'Inghilterra e passerà la storia con due soprannomi. Uno è Maria la Cattolica, perché in quanto figlia di Caterina d'Aragona, quindi imparentata con la dianestia reale spagnola, Maria era fervidamente, rigidamente cattolica e il suo principale obiettivo, nel momento in cui sale al trono, dovendo fronteggiare fra l'altro anche una fronda, cioè una fazione opposta all'interno della nobiltà, che era contraria a lei, uno dei suoi primi obiettivi e il principale è quello di sradicare l'anglicanesimo, cioè il nuovo ramo del cristianesimo, appunto la chiesa d'Inghilterra, che era stata introdotta da suo padre, Enrico VIII, con l'atto di supremazia, la riforma anglicana, insomma. Maria voleva tornare a imporre il cattolicesimo in tutto il regno e si applicò in questa impresa in maniera molto dura, molto severa e molto feroce. Oltre a far uccidere, fra l'altro, Jane Grey e la sua famiglia, proprio perché la vedeva comunque, nonostante Jane Grey l'avesse ceduto al trono, Maria la vedeva come un potenziale pericolo, Maria Tudor inizia una serie di persecuzioni spietate contro i nobili anglicani, contro tutta una fazione, diciamo, di nobili che sopportavano sempre meno questa figura di sovrana così rigida e così, appunto, sanguinaria, tant'è che è passata la storia anche Maria Prima d'Inghilterra come Maria la Sanguinaria, in inglese Bloody Mary, tra l'altro l'espressione Bloody Mary è stata usata poi in seguito anche per definire un drink di colore rosso, proprio per indicare scherzosamente, ironicamente, la ferocia di questa sovrana britannica. Una sovrana che rimarrà al trono per cinque anni. Lei nel frattempo, proprio per consolidare questa alleanza con le forze cattoliche del resto d'Europa, sposa Filippo d'Asburgo, cioè il figlio di Carlo V, e cioè quello che è passato alla storia poi come Filippo II di Spagna, uno dei più importanti sovrani europei. Un matrimonio ovviamente di tipo politico, come avveniva sempre fra i reali d'Europa della storia medievale e moderna. fatto sta che non riesce a mettere al mondo un'erede e nel 1558 si ammala gravemente. A quel punto, senza un figlio della legittima sovrana, si pone nuovamente il problema della successione. Infatti, l'erede più diretta era una figura che Maria aveva sempre visto con molto sospetto, con molta paura, tanto da averla addirittura imprigionata per lungo tempo, e cioè la sua sorellastra, la secondogenita di Enrico VIII, la figlia di Enrico VIII e Anna Bolena, ovvero Elisabeth. Il 17 novembre 1558, quindi, Elisabetta sale al trono d'Inghilterra. Passerà la storia come Elisabetta prima. Lei aveva 25 anni quando diventa regina, governerà fino al 1603, e il suo regno sarà uno dei regni più lunghi e più importanti nella storia d'Inghilterra, tant'è che questo periodo è stato definito Età Elisabettiana, e segnerà un enorme sviluppo a livello economico per l'Inghilterra. Sarà caratterizzato da una serie di vittorie militari, soprattutto contro la Spagna, e porterà anche una grande riceritura a livello culturale. Sarà il periodo del teatro elisabettiano, sarà l'epoca di William Shakespeare, l'epoca in cui il teatro inglese produrrà alcuni dei suoi massimi capolavori, anzi, dei massimi capolavori della storia della letteratura. Su Elisabetta sono state realizzate tantissimi film e romanzi. C'è un film del 1998, in particolare, che racconta l'ascesa al trono ai primi anni di regno di Elisabetta prima. E adesso andiamo a vedere, però, quali problemi si pongono a livello politico per Elisabetta, in particolare legati alla figura di sua cugina, Mary Stuart. Mary, che era nata nel 1542, aveva appena sei giorni quando, a causa dell'improvvisa morte di suo padre, Giacomo V, di Scozia, si ritrova a essere, formalmente, la regina di Scozia, una carica che manterrà per 25 anni. Inoltre, nel 1558, quando ha appena 15 anni, quasi 16, Mary viene data in sposa a Francesco di Valois. Francesco di Valois, ovviamente, apparteneva alla dinastia reale francese. Un anno più tardi, nel 1559, Francesco sale al trono, diventa Francesco II di Francia, e quindi Mary Stuart si trova già a cumulare una pluralità di titoli importanti, perché è regina di Scozia, ma è anche regina consorte di Francia, cioè la moglie del re. Non è lei direttamente la regina, non è lei ad avere poteri esecutivi, però è comunque la moglie del sovrano. Ora, questa sua situazione, di regina consorte di Francia, metterà in allarme, ovviamente, anzi, aveva messo in allarme l'anno prima, alla morte di Maria I d'Inghilterra, vari nobili e soprani europei, fra cui Filippo II. Perché? Perché, insieme a Elisabetta, Mary Stuart era l'altra potenziale erede al trono d'Inghilterra, ed era anche sostenuta fortemente da gran parte della nobiltà cattolica della Gran Bretagna, perché Mary Stuart era cattolica, mentre Elisabetta era anglicana. Tant'è che lo stesso Filippo II, vedo di Maria I d'Inghilterra, Filippo II di Spagna, farà in modo di favorire, comunque, l'ascesa al trono di Elisabetta, proprio per evitare una situazione potenzialmente pericolosa, e cioè che, a essere regina d'Inghilterra, fosse Mary Stuart, che era anche la moglie di quello che sarebbe diventato il re di Francia. Come vedete, questa rete di matrimoni e questa serie di successioni al trono avevano una serie di conseguenze politiche dovute al fatto che i reali d'Europa erano più o meno imparentati fra loro e questi matrimoni, queste parentele, poi formavano una rete di alleanze e quindi anche, all'opposto, una rete di ostilità e di rivalità. Il ruolo di Mary Stuart come regina consorte di Francia in realtà durerà pochissimo. Infatti nel 1560 Francesco II muore improvvisamente, è ancora molto molto giovane, e in pratica la suocera di Mary Stuart, la famosa Caterina de' Medici, che nel frattempo è diventata la reggente di Francia e la figura più potente dello Stato francese, in qualche modo non ha più interesse ad avere a corte Mary Stuart, la cosiddetta vedova in bianco, il bianco era il colore indossato dalle giovani vedove dell'epoca, tant'è che, mentre Caterina de' Medici poi si occuperà del periodo delle guerre di religione, farà dare gente a suo figlio, che ha ancora un bambino, Carlo IX di Francia, ordina, diciamo, chiede imperiosamente, chiede con una certa determinazione a Mary di tornarsene in Scozia, non la vuole più nella corte francese. Quindi nel 1561 Mary fa ritorno nella natia a Scozia. Per lei ha inizio un altro periodo molto turbolento, segnato in particolare da due matrimoni. Nel 1565 Mary Stuart, che è sempre, ricordatevi, la potenziale erede di Elizabeth, perché Elizabeth nel frattempo non si è sposata, passerà la storia come di Virgin Queen, la regina vergine, e quindi non ha un'erede. Allora, Elizabeth vorrebbe, in qualche modo trovare un pretendente, un marito di suo gradimento per Mary Stuart, quindi porre una figura a lei fedele, a lei leale, al fianco di questa cugina che è la sua potenziale erede, ma anche è una figura politicamente molto ingombrante. Però Mary Stuart prende una decisione diversa, cioè sceglie di contrarre un matrimonio con un nobile, Henry Stuart, noto come Lord Dernley, che è invece una figura, in qualche modo, lontana dalla rete di alleanze di Elisabetta. Ora, il matrimonio con Lord Dernley sarà molto problematico, perché, se è vero che aveva vantaggi politici per Mary Stuart, e il fatto di essere sposata, in qualche modo la poneva in una posizione di maggiore garanzie, ricordate, siamo in un'epoca in cui, comunque, essere una donna al potere era qualcosa di eccezionale, era qualcosa di molto anomalo. Una donna al potere correva molti più rischi, correva molti più pericoli, rispetto a un uomo. Quindi, la presenza di un marito potente al fianco era, comunque, una garanzia per Mary Stuart. Il problema era che Lord Dernley era un uomo estremamente violento e ruento, si faceva prendere da esplosioni di rabbia, addirittura commisse un omicidio in pubblico di fronte agli occhi della moglie. Insomma, si rivela un matrimonio ben poco felice, e due anni dopo le nozze, nel 1567, Lord Dernley rimane ucciso. Si verifica un'esplosione in casa sua, Lord Dernley muore, questo omicidio crea un enorme scandalo, un enorme scalpore, fra la nobiltà scozzese, ma anche fra il popolo. Perché? Perché responsabile di questo omicidio viene individuato nella figura di James Hepburn, conte di Bothwell, un altro grande aristocratico scozzese, che era anche l'amante di Mary Stuart. Gli storici non sanno ricostruire con certezza se e quanto e fino a che punto Mary Stuart fosse complice di questo omicidio. Fatto sta che si diffonde in Scozia l'opinione che Mary avesse complottato con l'amante Bothwell per uccidere il marito, e questi sospetti sono rafforzati dal fatto che subito dopo la morte di Lord Dernley Mary Stuart decide di sposare James Hepburn. Improvvisamente scoppia una rivolta, in pratica, contro di lei, la nobiltà scozzese, la maggior parte della nobiltà scozzese si ribella contro Mary Stuart, che infatti sarà costretta ad abdicare, a cedere la corona in Inghilterra a suo figlio, figlio praticamente neonato, Giacomo, che passerà infatti al trono come Giacomo VI di Scozia. E non solo. James Hepburn fuggirà in Danimarca, dove sarà poi arrestato e passerà il resto della sua vita in prigione. Vedremo come proseguirà la vicenda di Mary Stuart, che a questo punto si intreccerà nuovamente a quella di Elizabeth. Nel prossimo video vedremo appunto come proseguirà la storia parallela di queste due grandi sovrane.